Molto partecipato l'evento Cuore in Forma, dallo stile di vita alla prevenzione cardiovascolare, realizzata a Vallelunga Pratameno lo scorso sabato pomeriggio. L'evento, organizzato dalla Fondazione Nissena Vita e Salute, che vede responsabile l'infermiere del soccorso di Caltanissetta in Zagro con il patrocinio dell'amministrazione comunale, è stato arricchito dagli interventi dei dottori Calogero Geraci, dirigente medico di cardiologia dell'ospedale di Caltanissetta, Roberta Sardo, dirigente medico rianimatore della centrale operativa di Caltanissetta, Giuseppe Misuraca, direttore generale della centrale operativa Bacino-Caltanissetta-Enne da Grigendo, ed Ignazio Lacagnina, responsabile della formazione Croce Rossa sezione di Mussomeli. Questo è servito a sensibilizzare la popolazione circa la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Una prevenzione efficace ha bisogno di informazioni corrette. L'obiettivo dell'incontro è stato duplice. Da un lato sono stati analizzati i cosiddetti fattori di rischio che mettono a repentaglio la salute del cuore, assunzione di alcol, droghe e fumo, ma anche stile di vita sedentario. Dall'altro, in che modo si può intervenire per salvaguardarla? Le buone abitudini possono infatti incidere positivamente sui fattori di rischio.